e rieccoci qui ragazze e ragazzi siamo su control io mi trovo dove c'è il dipartimento crollato e sono andato poco più avanti scoprendo l'accesso passaggio infatti era quel punto di domanda che mancava poiché io praticamente quando sono venuto qua la prima volta anziché andare giù di qua sono andato di qua e mi sono dimenticato di quella parte lì per questo io guardavo qui ma in realtà non c'era nulla però andando giù di qua c'è un ascensore che adesso andiamo a vedere dove ci porta se ci porta da qualche parte l'episodio scorso abbiamo concluso tutti i vari rituali abbiamo preso le diciamo quattro chiavi completando gli enigmi però pare che la situazione sia comunque grave e che il chiodo non andasse riparato poiché marshall l'aveva distrutto con gli esplosivi adesso io sono più che sì giustamente esatto e sì adesso passiamo di qua e siamo andati appunto a scoprire anche l'altro punto di domanda cioè la voragine che però la porta è chiusa non conduce a niente non saprei cosa dire e ci dobbiamo buttare dove c'è il chiodo ora però prima di fare ciò stavo giusto dando un'occhiata in giro per capire se abbiamo lasciato indietro qualcosa tipo questo qua non siamo andati vediamo dove luce blu dove siamo boh segna sempre qui sì sì l'avevamo trasportata cioè l'avevamo messa su sto coso sulla piattaforma e poi se n'è andata cioè nel senso la piattaforma si è mossa però forse stiamo depurando l'oggetto madonna jesse fede in piattaforma in rapido movimento nuova missione si stiamo purificando l'oggetto ma cos'è siamo negli anni 80 questa musica poi ok si è una missione secondaria oh madonna aspetta e ha messo le bande come fosse un film si stava sgrettolando quello sbaglio attenzione ah no no ok colpisce qualcosa non è che si sta rompendo pensavo che stava rompendo ah delle casse ok e si perchè nel gioco base facevamo anche questo purificavamo gli oggetti un po' come madonna un po' come l'ancora no aspetta che devo ricaricare vabbè sono molto deboli però ok non so mi sembra di essere in tron però c'è in un certo senso bello però ok ah non c'è più non c'è più bene oppla ah va che sono là oppla ok aspetta non l'ho preso ora devo guardare anche avanti che adesso riabbiamo l'altra piattaforma ah qui è un tunnel ah no è l'oggetto sta scappando praticamente eh eh sì ma intanto devo aspettare di raggiungerlo provo a sparargli anche se aspetta ci si è avvicinato un po' ok forse l'abbiamo che è scappato praticamente ok purca a livello 10 questo questo mena ecco sta bene aspetta oh così ah ok vado dove sono non mi vedevo più vado aspetta calma non ho molta vita ma va fa niente guardate questo ecco sparato non riesco a prenderlo ah 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 attenzione mi vedevo davanti ok ok ma è rotto le balle però è morto no no ancora lì treno al completo aspetta che vado dall'altra parte che c'è un po' di vita tutto preso sì mi sa di sì no non mi interessa quella missione dicendo altro non vedi oh ma tu non ce l'hai la vita cioè ok 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 ah lo scudo ma ok aspetta schiva 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 e non riesco dopo che gioco lo scudo non riesco più a prenderlo aia è morto ah sì ok va come prima ok sembrava più un film guarda miglioramento uccisioni consecutive ok siamo sempre eh si vedi siamo sempre qua bello è stato bello ok e l'avevo saltato perché non avevo visto questa via eh già ecco perché diceva che si arriva il personale addestrato eh e però se allora qua è così secondo me anche lì a lavoragine c'è qualcosa che non ho visto secondo me vado a vedere vediamo se riesco a risolvere quel punto la mappa finisce un po' come qua però siamo andati anche oltre quindi non è un problema di mappa aspettate aspettate l'altra volta non ci ho fatto proprio caso ma questo è il cristallo eh l'altra volta non ci ho fatto caso found footage usa l'oggetto alterato per sfuggire per sfuggire alla voragine io però così non vedo niente beh beh eh devo devo andare giù madonna ma una torcia però sì guarda non me la parla si vede niente non l'avevo proprio vista la il cristallo lì il coso che possiamo eh è un nemico però a livello 15 mi sa che è molto superiore a noi eh quello è un tv ecco grazie ah beh però facciamo male piuttosto male pensavo no c'è anche il simbolino in alto ok se è della mia parte adesso altra tv eh sì facciamo luce con questo adesso lui piano piano muore aspetta aspetta tanto tanto non si distrugge abbiamo visto aspetta ti controllo adesso ok così magari ok vi scannate tra di voi ecco ecco va che si stanno scannando si stanno menando proprio anche tu guarda ecco 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 vuoi dare una mano al tuo nuovo amico ok no eh vedi c'era qualcosa sì perché secondo me lì al crocevia sì ok è il classico classico punto di non ritorno secondo me lì al crocevia adesso quindi dobbiamo fare tutto ciò che abbiamo lasciato in sospeso se avevo letto che comunque non era un dlc lunghissimo eh qui non la lascio cadere non preoccuparti ok ok sì sì lo sappiamo ok ah lì c'è qualcuno vedo l'ombra aspetta molliamolo un attimo guardalo lì è tipo è attirato dalla luce ecco abbiamo fatto un po' di luce no dove devo andare di qua ui la la siete tanti aspetta ok allora facciamo così controlliamoli va un po' come prima così almeno si scannano tra di loro vedi che stanno arrivando ok ok aspetta aspetta non picchiarlo ok adesso ecco come si minano bene adesso anche tu ok ok oh intanto che loro si fanno infatti loro dammelo qui ok ok oh possiamo possiamo proseguire ah qui ci sono basta volare basta volare si spera ok si mi ha danneggiato un po' ma neanche troppo aspetta hai visto che siamo fuori dalla mappa qua eh anche questo va bene si capire cosa c'è qua non si vede niente due casse ci sono però sono le rocce su vabbè seguo i simboli o meno ok ok c'è qualcosa di luminoso ah è la torcia ok aspetta ok possiamo proseguire adesso ci sono quelli volanti un attimo no non voglio questo che vabbè io dico che non si rompe però no si sa mai se riuscissi a controllarne uno ok aia mi ha fatto malissimo ok che ha lasciato un po' un po' di vita ok basta non ah già che sono attirati dalla luce è vero è vero come come gli insetti come gli insetti come le zanzare magari aspetta ok ok dai possiamo proseguire beh o l'ho lasciata giù ok ah si può anche scendere aspetta aspetta no però a fine non si vede proprio niente senza aspetta dov'è eccolo qua vai accendiamo ok 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 meno male sono tornato come il mio solito a controllare sennò ce li perdevamo guarda vini qua vini qua vini qua aspetta faccelo venire ok adesso facciamo così molliamo no eh che cavolo volevo chiuderlo fuori ma forse ce l'ho fatta vabbè sta sta lì sembra atti quello che parla ok ce ne sono due guardali ok ok sì dai eh sono tanti colliamo va che volando non ci prende ok aspetta che mi devo ricaricare ricaricare un po' ma sì è atti è lui va custode ok vabbè vabbè ok 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 no ah ah ma dove sono sbucato si dove c'era la porta questo l'avevo messo qua per esperimenti perchè non so tornando qua ne è apparso un altro di sto coso ok quindi devo metterlo qua dentro infatti ecco eh c'era un ok un motivo di sta cassa qui eh ok perfetto quindi abbiamo risolto no aspetta abbiamo risolto il problema della voragine e dell'accesso passaggio praticamente quindi abbiamo visto tutto se altri punti di domanda non ne vedo il magazzino il laboratorio segreto l'abbiamo fatto quindi a posto possiamo andare dove dobbiamo andare cioè giù nel dove c'è il chiodo ok abbiamo nove punti abilità se è che prima non potenziamo questo va la rete anzi potenziamo prendiamo la rete con scudo potenziamolo al massimo abbiamo altri cinque punti abilità allora io piuttosto che il danno in misia tanto uso poco piuttosto potente anche questo lo uso poco il colpo a terra però è quello quello ho messo peggio praticamente quindi ah no tre ne sono rimasti ok adesso due vai ok va bene adesso spostamento rapido perché il crocevia il crocevia era giallo prima fammi vedere torniamoci lì cioè lo giallo come quando dà l'obiettivo infatti mi dovevi buttare qui praticamente però e non è più ah perché sì giusto non è giallo perché non è attiva la missione eh giustamente e infatti scusami tu devi dimmi qualcosa ma forse no infatti ok vabbè allora posso anche buttare oppla ok eh beh eh direi giù giù visto che sono fondamenti eh ma Grazie a tutti. Ok, forse era un albero, boh, in origine, strano, crocevia inferiore, poi là, crescono come piante qua, questi cristalli qui, eh sì, va beh, ci vuole ben altro direi, per fermarmi. Fanno un pochino male, no? Culla di grado. Christ, what a mess. Dovremo scegliere, boh, non so, pet collezionabili qua, eh, fascicolo caso, però, boh, in questo caso non so di che caso parlano, eh, appunto. Aggiungi il fondo del chiodo, l'ho detto adesso. Ok, è proprio fondamenta estreme. Ah, c'è un punto di controllo. Cos'è? Cos'è sta nube qua? Forse mi aspetta uno scontro. Tipo fa l'oprima del boss. Aspetta. Ah, posso chiedere rinforzi? C'è un punto di controllo. Non c'è nessuno che sento il house. Il loro ozano sono troppo pieni di lies. Ci siamo mostrati il modo in cui possiamo aiutare. Ma tutto ci siamo fatti, è fattere a questo stesso parasito. Mi dovrebbe vedere il web prima. Il strano tra il nord, la pilla, la scuola, l'id. Cosa speriamo abbiamo? Perciò in questo conflitto senza comprensione. Ho deciso di rinforzare il pubblico in le basi. Per finire il mio lungo absente spento in la fondazione. Nortmore sarà freddo a me per disobeying lui. È proprio il modo. Ma non importa. Ho bisogno di rimanere in la casa più vecchia per aiutare. in modo che sia possibile. Mi dico che potrei rinforzare il pubblico nel corso giusto. Ma devo provare. C'è stato così lungo senza un propósito? Senza una dimenticazione? Non posso ricordare come si senti. Ho capito di quattro che sono a mio padre per mettermi in questo passaggio. Ho spero di poterle diretti quello. Questo è il direttore. Ho bisogno di rinforzare la mia locazione. Eccolo. Come è arrivato giù non si sa. Come sempre. Oh. Col CV inferiore. Aspetta. Sarà mica Marshall quella. Aspetta riconosco l'arma. Appunto. Aspetta. 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 Almeno. Non è andata giù. Peccato. Ce l'ha con il mio alleato. Che è ancora tutta la vita. Attenzione. Ok. 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 Ho messo la barriera. Preso. Non so cosa stai dicendo. Aia. Aspetta. Vai. Vita, vita, vita. Vita. ok e che spara? ah ma è un alleato attenzione ok ok ma anche questo è un alleato è il consiglio forse quelli del piano astrale è andata giù dov'è? attenzione guardata è là no ah eccola no lui è uno normale ok ah ecco no dove è finita oh no che sei porca vacca vita vado a prendere la vita ok guarda se vai un po' più in là eh no vai vai lo controllo lui è il cecchino ok dov'è? dov'è? va là ce li ha tutti contro insomma no dov'è? ahia ah già avevo le spalle non si fa così aspetta meno male c'è la vita un po' in giro potrei rischiare una cosa oh ok ok alla fine aspetta aspetta di là e si perché poi facevano parte del piano astrale perciò che se mi hanno sempre attaccato eh ma qua c'è una barriera eh no non posso passare mappa male non mappata allora dai purifichiamo alleluia sbe si eh questa è proprio la base base del chiodo va bene eh parlano di più in questo DLC cioè consiglio almeno nel gioco base non mi ricordavo che erano così comunicativi perlomeno che parlavano in maniera decente cioè aspetta oddio ma lui ti ho visto eh beh no no the nail is secure the hiss can't touch it I can't undo the astro bleeding in the foundation but at least it's stopped along with the seismic activity you did it Jesse did you ever find Marshall I did she's gone she died thinking she'd save the bureau Non è un modo malo per andare. Non ero pronto per questa crisi. Non ho mai visto come. Ma ho prometto che sarò pronto per la prossima. Cioè, che buono un direttore che non può guardare un bureau insieme? Finisce così, vabbè, avrebbe risolto la situazione. Anticamente. Però ho visto una figura lì. Vediamo. Non c'è altro, non so. Non c'è altro, non c'è altro. Ah, ah, ok, ma mi posso muovere. Ah, ok. Vediamo, parliamo con Emily, fa vedere. Missioni. Fatte tutte, ovviamente. Salve. Ora che questo business di nail è gestito, dovrei probabilmente tornare a tornare ad exegutivo. Ma, magari, continuo a spostare. Ecco, queste cose sono nuove, sentiamo. Ha il nail fatto qualcosa da quando abbiamo ristitato? Define qualcosa. Qualcosa nonostante? Define nonostante. Emily. Scusate. Ma la risposta è un sì. Ora che è tutto, il nail è emittura un fletto di... Well, think of it like low-level radiation. It seems to suppress any biological matter it encounters. This explains why nothing grows here and why the Bureau had to abandon the area. Prolonged exposure would certainly begin affecting neural processes. Wait. Was the field created when I cleansed the nail? I considered that, but the nails readings are quite different from the ones I recorded at the cleanse control points. I think the nails field is purely of its own making. In fact, I think it would passively prevent any hiss corruption, like the HRAs do. Which makes me wonder what actually occurred when you cleansed the nail. I've been wondering about that myself. Did the Board let the hiss corrupt the nail? Did they want me to cleanse it? If so, why? What do you know about Director Northmore? Well, he was Director Trench's predecessor and Northmore's famous for being the first Board-appointed Director. See, before he found the oldest house, Directors were picked by committees of old men in suits drinking cognac and smoking cigars or whatever. or, you know, standard, uninteresting methods. I think the word you're looking for is bureaucratic. Or antiquated. Regardless, Northmore was eventually forced to... Well, we don't need to go into that. Strangely, the only two Board-appointed Directors left the position under... unusual circumstances. If the Board appoints a Director, then how do they retire them? I doubt they go out and buy you a gold watch. Sorry, Jesse, I didn't mean to imply that... Don't worry. If anyone's getting shown the door, it's them. Esatto. What do you know about an entity named Former? I can't say I've heard of it. You got any details for me? Well, imagine a one-eyed bug thing. I think it was a part of the Board, but then something happened, and now it's... separate? Interesting. See, I always wondered if the Board was some sort of entity or group or conglomerative-linked consciousnesses, but this supports the group theory. Although I could have undergone some sort of corporeal exile. too many unknown to form a working hypothesis yet, but I can prioritize this matter in future Astral Dives if you think it's important. Fortune favors the prepared. Do it. Ok, però... I'm going to keep looking around. I wish I could go with you, but I still need 30 hours of training before I can do fieldwork. More work on that. Beh, ma a me sembra che tu sei sul campo, però non fa niente. Eh, comunque... Adesso io voglio fare una cosa. Aspetta, voglio ritornare qua. Perché? Alla fine il gioco mi ha... in un certo senso fermato, cioè mi ha teletrasportato di sopra, ma... noi abbiamo intravisto... un qualcosa... anzi, era Lex, era lui. Alla fine di questo percorso. Aspetta. Poi, al limite, mi ha teletrasporto su. Ma perché siccome sto titolo... cioè nonostante sia un DLC, comunque... hanno mantenuto lo stile ovviamente del gioco base, ovviamente. Quindi ci sono dei segreti, no? Non vorrei... e i due oggetti che abbiamo purificato alla fine erano segreti. Ok. Di certo non c'era la missione segnata. Allora voglio un attimo vedere... ma intanto... salvo anche... prendo questo. Ok. Ok. Poi... andiamo di qua. Ok. Ah, lì non sono andato a vedere, aspetta. O forse sì, mi ricordo. No, ero andato a vedere da due parti. Forse lì no. Eh, qua ero andato a vedere, ma è uguale. no, di qua. Allora, vediamo un attimo. Cioè, perché se mi hai fatto fare sta strada e poi alla fine della strada mi hai teletrasportato in alto, tanto valeva non teletrasportarmi subito dopo aver... aver... Ah, ma ho capito dove sono sbucato. Sì. Eh, però era lì, eh. L'essere. Sì, sì, qua c'era una cassa. Sì, mi ricordo. Aspetta, è sempre un po' buio, eh, però. Era lì. Non lo so. E se provassi ad andarci? Andiamo. Devi provare. Dove arriviamo? Poi se abbiamo... No, c'è la barriera invisibile qua. C'è una barriera invisibile. Qua adesso scendiamo. Oh... Ecco. Pazienza. Mi tenete appunto di provare. Ok. E allora proverai un'altra cosa, guarda. Dopodiché. Ok, sì. Facciamo spostamento rapido. Eh, quindi qua a posto. Sì, sto dando un'occhiata generale. Sì, sì, praticamente. Beh, oddio, in realtà... Forse una strada da vedere c'è. Dove c'è il magazzino? Credo. Quella strada lì. Aspettate un attimo. Vado a dare un'occhiata, eh. Poi ci rivediamo dove ci... Dove pensavo prima. Aspetta. Ah, vedi che c'era una zona. Sì, qua. Eh, infatti, dove non abbiamo visto. Qua. Sì. Solo che... L'abbiamo visto dall'altro lato, ma era inaccessibile. C'è una specie di barriera. C'è una barriera invisibile. Ah, vabbè, però è solo per le casse. Vabbè. Niente. Vabbè. Qualcosa che mi era sfuggito. Ok. Va bene. Allora, adesso io direi... Che me ne posso anche tornare indietro. Andiamo a visionare un'ultima zona, che però non è... Non fa parte degli LC. E dopodiché possiamo anche salutarci. Ok. E poi, per quanto riguarda control, ci vedremo quando uscirà l'altra espansione. che non so se a maggio, no, forse a giugno, non lo so. Allora, io devo andare nel... Aspetta. Com'è che si chiamava il luogo? Proprio fondamenta. Fondamenta. Esatto. Vado a vedere una cosa qua. Se per caso c'è qualcosa di diverso, non so, così. A naso, proprio. Cosa? Questo? Con chi ce l'ha? Boh. No, volevo vedere se qua era cambiato qualcosa, ma... Forse no. Sempre tutto bello vuoto, ok? Bello vuoto. Anche poi si pensava fossero queste le fondamenta. Invece c'è molto di più al di sotto. Va bene. Va bene, allora... Niente, io vi ringrazio, come sempre, per seguirmi. Seguirmi, eventualmente supportarmi, anche con un semplice commento. Benissimo, sono più che contento, eccetera, eccetera. E noi, come ho detto poco fa, con Control, o Control, fate voi la pronuncia esatta, ci rivediamo. Praticamente dovrebbe uscire The Awe, come avevo detto nel piccolo DLC The Expedition. Dovrebbe esserci qualche collegamento con Alan Wake, non lo so. E non so quando uscirà, non ho capito se maggio o giugno o comunque estate. Ecco perché so che questo DLC per ora è disponibile solo su PC e PS4. Poiché PS4 e PC hanno l'esclusiva temporale. Su Xbox One uscirà a giugno. Quindi non so se magari quando uscirà a giugno fanno uscire anche l'altro. Ecco, se non sbaglio il 26 giugno, credo il 25 giù di lì. Ecco, comunque, in ogni caso vedrò come sono messo, insomma, con le serie che avevo in corso. Adesso non lo posso sapere, ma se non il giorno stesso, magari, o i giorni, diciamo, vicini all'uscita. Anche come è accaduto in questo caso, perché poi penso che questa serie ve la pubblicherò che da una settimana di distanza dall'uscita, penso. Comunque sì, in ogni caso, periodo d'uscita, lo vedrete sicuramente sul canale, visto che il gioco base mi è piaciuto. Questo DLC mi è piaciuto, nonostante tutto, è stato divertente, insomma, di tornare un po' sul contro. Nonostante, no, leggo in rete su YouTube qualche commento abbastanza aggressivo riguardo a questo titolo. Vabbè, ok, ok, peccato per loro che non gli sia piaciuto, pazienza, pazienza. Comunque, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi. Ciao a tutti.